Covid-19 in Sicilia, trend stabile dei casi 1472, tre decesse a Seracusa reggono i contagi. Sono 1472 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 12.057 tamponi processati, ieri i positivi erano 1.331, il tasso di positività è al 12,2% e un aumento rispetto al 9,1% di ieri. La regione è all'ottavo posto per contagi, gli attuali positivi sono 20.428 con un aumento di 448 casi, i nuovi guerriti sono 1.021, tre morti che portano nel totale a 12.244. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 305, 5 meno di ieri, mentre in terapia intensiva sono 16, 2 meno di ieri. Nell'ambito dei contagi a livello provinciale, Catania 405, Palermo 318, Messina 285, Trapani 134, Siracusa 128, Ragusa 59, 355, Caltanissetta 52, Enna 36.